Ciao a tutti! Ciao a tutti! Come state? Bene! Voi? Bene! Allora, che si dice? Allora, io mi sono appena resa conto che ho lo stesso outfit della settimana scorsa. Sonia, come ti puoi permettere? Ragazzi, giuro che mi cambio! È solo che questa felpa è molto comoda, quindi la metto spesso. Pensaranno che abbiamo registrato due ore di fila, tanto per conservare un po' di tempo. Tu ti sei cambiato, per fortuna. Anche se nella settimana scorsa avevo gli stessi colori, perché avevo una felpa bianca con scritte rosso e blu. Ah, però la settimana scorsa non sapevamo chi era il nuovo presidente degli United States of America. E oggi sì. E adesso lo sappiamo. Per questo mi sono messo blu, rosso e bianco. Perché? America, Stati Uniti, sono statunitense. USA, USA. Bene. Ah, quindi parliamo della politica? No, perché io non ci capisco niente, però volevo solo dire che, appunto... Quale argomento ti piace di meno? Politica o matematica? Matematica! La matematica mi piace meno di tutti. Quindi tutto ciò che ha a che vedere con l'economia, la finanza, i numeri, le statistiche. Cosa mi racconti? Iniziamo con il Weekly Wrap? Se vuoi sì. Ok. Weekly Wrap! Allora, ragazzi, vi dico che il Lazio è ancora in zona gialla, quindi ancora per un po' probabilmente ci sarà permesso uscire il weekend per fare una passeggiata fuori. E quando si esce ci sono tantissime cose da fare adesso, soprattutto la sera dopo le 10 più che altro. La sera non puoi uscire dopo le 10. Allora, è tutto chiuso, cioè, allora, il coprifuoco è alle 10. I ristoranti chiudono alle 6. Non puoi stare in un gruppo di più di 6 persone. Devi evitare luoghi affollati. Ti sconsigliano di uscire dal tuo comune di residenza. Scusate che mi sto cambiando perché fa un po' calduccio. Vabbè, ragazzi, questo è inutile che stiamo a parlare qui. Per fortuna, anzi, anzi che siamo andati a fare una passeggiata. Sì. Che fortuna che abbiamo. Vabbè, oh, pensa chi è in zona rossa, poverino, neanche quello può fare. Ci arriviamo. Ma tanto ci arriviamo anche noi perché, ragazzi, si parla di un altro lockdown totale per tutta l'Italia e probabilmente non ci sarà permesso festeggiare il Natale in famiglia. No. Lo so. E prima stavo dicendo a Brian che se mi dicessero Sonia, inizia un lockdown totale, come a marzo, da adesso fino a fine gennaio, quindi sono due mesi e mezzo, però dopo, il primo febbraio, la vita torna normale. Io lo farei. Io lo farei. La cosa che mi disturba tantissimo è il non sapere quando sarà la fine. Perché se mi dessero una fine, io accetterei tutto, stringerei i denti e ce la farei. E se questa fine fosse tra tre anni? Eh, no. Allora hai detto che avresti accettato tutto. Vabbè, accetterei tutto, dai, su tre anni sono tanti. Però lo accetterei in lockdown, accetterei di non fare il Natale. Però certo che è così. Certo, cioè voglio sottolineare che la cosa difficile è non sapere quando tutto finisce. perché adesso stiamo vivendo, sperando che a breve la vita tornerà alla normalità, ma non lo possiamo sapere e questa cosa ci tormenta perché dentro i nostri poveri cervelli non abbiamo quella pace che ci dice tipo, fai un po' di più che ci sei quasi. Sì, è vero. Stiamo facendo tipo, fai un po' di più che poi farai un altro po' di più, che poi farai un altro po' di più. Sì. Quindi. Comunque basta, non voglio parlare di questo argomento deprimente, un minuto di più su questo canale per oggi. Però visto che la mia settimana non è stata proprio piena di cose, puoi anche parlare della tua settimana. Allora, non sapete quante belle cose mi sono successe. E dai, parla di ieri. Ieri? Che ho fatto ieri? Ma come? L'università? Spiega che è successo. Allora, ieri, in pratica da un po' di mesi sto in contatto con la mia università perché loro volevano parlare con me come ospite speciale all'università per condividere le mie esperienze e insomma quello che ho fatto da quando mi sono laureato. Perché mi sono laureato cinque anni fa nel 2015. E da quel punto fino ad adesso tante cose sono successe nella mia vita. Adesso vivo in Italia, ho la moglie italiana, tutto quanto. Hai scritto un libro. Ho scritto un libro, i miei canali, sono cresciuti, tutto quanto. Quindi un mio ex professore sapeva tutto questo e tra l'altro io e lui eravamo anche tipo avevamo un buon rapporto quando ero uno studente suo. Quindi comunque lui ha suggerito me come ospite alla mia università. Quindi ieri abbiamo fatto una videochiamata su Zoom in cui ho spiegato tipo appunto questa storia della mia vita. E niente, quindi è stata un'esperienza speciale. Sono onorato di essere un ospite per la mia università, quella facoltà italiana. E niente. Secondo me è un grande onore. Io ho guardato, ero lì che partecipavo. Mi hanno anche fatto qualche domanda. Però c'è una cosa che mi è sembrata che... Basta, smetti di fare tutti questi rumori. Ho bevuto. Ma la gente lo ascolta in podcast. Non è bello tutti questi rumori di plastica. Basta. Ho smesso. Vabbè. Comunque c'è una cosa che mi è sembrata fosse un argomento abbastanza principale. Perché ieri tante persone che hanno partecipato erano le persone che alla tua università... Che vogliamo dire qual è? L'università KU del... KU? Kansas University. Eh. A Lawrence. Luxapenny. Sì. Tante persone lì che studiano l'italiano. Quindi le persone che studiano l'italiano, come è quello che ha fatto Brian, hanno partecipato alla riunione di ieri. E una domanda che mi sembra che ti abbiano chiesto praticamente due volte è... Noi siamo preoccupati perché stiamo studiando l'italiano. L'italiano non è come una... Sai, se hai una laurea in medicina, una laurea in ingegneria dove ti laurei e trovi lavoro. Loro dicono ma dopo che ci laureiamo, come americani, con questa laurea in italiano, ma che cavolo facciamo? Ci sono delle possibilità di lavoro? E io ero lì tipo... Brian... Infatti, è come accennavo ieri, è la verità ed è anche una domanda difficile a cui rispondere perché la verità semplice è che se ti laurei in italiano non c'è tanta domanda per gli studenti laureati in italiano. Oddio, parli l'italiano, c'è tantissimo di valore alla nostra azienda. Ci serve, assolutamente. Avevamo proprio bisogno di uno che parlava l'italiano, adesso saremo ricchi grazie alla tua conoscenza. No, non è per niente così, questo non lo nascondiamo, anzi, è così e basta. Quindi mi hanno chiesto, infatti, cosa si deve fare o come si può approcciare questo problema. E' una domanda difficile appunto, quindi dicevo la verità, che facendo una laurea del genere impari altre cose che magari non sono proprio adatte perfettamente ad uno o qualsiasi lavoro, ma hai della nuova conoscenza unica e particolare che solo tu hai, che magari puoi trasformare in qualcosa per te. Cioè, comunque bisogna pensare creativamente se ti laurei in una cosa del genere, ma non solo l'italiano, ma anche altre lauree umanistiche. Però è vero, poi alla fine il tuo professore ha detto una cosa giusta, dice in realtà l'università non è che ti deve trovare il lavoro, tu non vai all'università perché dopo devi trovare il tuo lavoro, l'università. Non sono completamente d'accordo con questo. Però è vero, l'università in teoria ti deve formare, l'università è istruzione superiore, quindi deve formare degli individui pensanti, istruiti, e molte volte coincide anche con un lavoro. Altre volte no, chi si laurea in filosofia non ha il lavoro servito, neanche chi si laurea in psicologia ha il lavoro servito, perché è così difficile lavorare come psicologo. O chi si laurea in lettere. Ci sono praticamente quasi tutti gli indirizzi umanistici che ti formano mentalmente, però non ti danno un lavoro in mano. Quindi poi tu con quelle due conoscenze devi trovare la tua strada. Esatto. Non lo so, tipo, una cosa bella dell'imparare una lingua è che ti rende... Cioè ti mette una nuova mente, quindi ecco una cosa che se studi ingegneria magari non impari o non avrai. Quindi è tipo una specie di saggezza particolare tua che puoi avere. Eh sì, magari non è perfetto per un lavoro, ma comunque è una cosa che ti arricchia la vita. Arricchisce. Arricchisce la vita. Beh, comunque è perfetto per alcuni tipi di lavoro. Sì, tipo... Certo, se mi metti a me a fare l'ingegnere, non siamo al sicuro. Però magari, ecco... Non so se alcuni di voi siete studenti o anche al liceo non sapete cosa volete studiare, non sapete che futuro avrete, questo è normale e l'importante è... Oddio, non so cosa è l'importante. L'importante è comunque dire pure che fare una cosa che ti piace non è così semplice, ma è quello che ho fatto io. Per me è importante. Per me è importante. Alcune persone pensano, eh, ma se non c'è sbocco lavorativo ovvio per questo indirizzo, allora forse non dovrei farlo. Ok, fino a un certo punto. Nel senso che se poi decidi di fare una cosa che non ti piace solo perché poi c'è il lavoro, ma allora hai perso in partenza, perché anche se ce la fai e trovi il lavoro, stai comunque facendo una cosa che non ti piace. Quindi hai comunque perso in partenza, tanto vale provarci secondo me. Questo è il ragionamento che ho fatto io. Poi certo, io nella mia esperienza personale, io ero indecisa, dopo le superiori, se fare lingue o se fare storia dell'arte. Erano due cose che mi piacevano tantissimo, storia dell'arte e lingue. Forse io ero proprio 50 e 50. Mio padre voleva che io facessi economia. Io economia ho detto no, perché non mi piace. Vabbè che ci sarà lavoro, ma non mi piace. E quindi poi ho scelto tra le due lingue, perché magari è quella che ha più sbocchi pratici, però comunque ho scelto una cosa che mi piaceva. Cioè tra economia e storia dell'arte avrei comunque scelto storia dell'arte. Poi sarò anche incosciente, però se uno non ci prova... Sì, è esattamente quello che sto dicendo. Tipo economia, tuo papà, ragione molto più pratica, avresti trovato un lavoro magari facilmente. Mentre storia dell'arte, che lavoro vai a fare? Niente. Però è comunque bello avere queste conoscenze. Ma il brutto è che nella nostra società avere certe conoscenze non ti porta a niente, mentre avere un bel lavoro ti porta a tutto, perché cioè stiamo parlando di soldi. Se hai un bel lavoro con tanti soldi puoi vivere come vuoi vivere. Ma comunque sei schiavo di un lavoro che non ti piace. Però se anche, non è detto però, è comunque se studi una cosa che ti piace ma poi per il resto della tua vita devi lottare la società perché non ce la fai ad avere abbastanza soldi perché la società non... Cioè, quello che hai studiato non importa la società, anche quello, anche se sì, ho studiato quello che volevo studiare. È comunque brutto perché da quel punto in poi non hai più soldi, non sai che fare. Ma io non la vedo così catastrofica come cosa, anche storia dell'arte. Sì, se l'avessi fatto forse sarebbe stato difficile fare il critico d'arte, va bene. Ma ci sono altri mille lavori, avrei potuto lavorare in una casa d'aste. Conoscevo già bene l'inglese. Come un auction house, dove ci sono varie pezzi d'arte, tu li devi studiare, devi dare il valore. È comunque molto interessante, quindi secondo me alla fine lo puoi trovare un lavoro che ti piace. Sei molto ottimista. Questo mi sorprende perché di solito non sei così ottimista, soprattutto sul mondo del lavoro. Ma no, perché alla fine devi fare qualcosa che ti piaccia, altrimenti hai perso già. Vabbè, comunque, a parte... Comunque sì, sono contento di aver fatto quella cosa. Un grande onore. Sì, grazie. Grazie, grazie, grazie. Fai il modesto. Sì, cioè, non è un gran che comunque. A me mica mi hanno chiamato a parlare. Cioè, i miei, la mia famiglia mi dicevano sempre tipo... Sei emozionato? Sei felice? Oddio, siamo così fieri. Grazie. Però non è stato... Un premio... Mica chiamano tutti, eh. Premio eccezionale tipo Brian Miller, vincitore di questo premio Nobel Prize. Eh, vabbè, mo' tu punti al Nobel. Se non è il Nobel non ti emozioni come punti in alto. Hai ragione, devo essere fiero di me stesso, devo essere contento. Dai, Brian! Poi, hai altro da aggiungere al tuo weekly rap? Vogliamo parlare dell'argomento? Tua mamma è passata, ci ha fatto stare bene col cibo che ha portato, che poi ha cucinato. Mia mamma ci vizia sempre. Quando viene, anche se io le dico, guarda, ce l'abbiamo il cibo. Noi non abbiamo mai tantissime scorte, però un po' di pesce, un po' di verdure ce l'abbiamo quasi sempre. Lei fa comunque la spesa per tipo due settimane. Sì, grazie. E compra tutte le cose che io non compro, tipo i biscotti. E compra anche tutte le cose che non dovrei mangiare. E però, poi, le mangio volentieri. E i biscotti della Nutella? Adesso sì, piano piano mi sto finendo. Le mozzarella di bufala che io non posso mangiare i latticini? Quello piano piano sto finendo. Ma in teoria, adesso, in questo periodo, non lo devo mangiare. Formaggio buono buono che io lo guardo. Non posso mangiare i latticini. La pizza? Mamma! Grande, grande mamma. Poi, per oggi, vogliamo parlare dell'infanzia. Ho deciso di parlare dell'infanzia. Dai, facciamo un viaggio nel passato. Sonia, bambina, e Brian, bambino. Ho scritto qualche domanda. La prima è, da piccolo, che tipo di amico eri? Rispondi prima tu. No, perché io ero terribile. Ah, per questo l'hai chiesto. Infatti ha senso adesso. Perché tu eri un po' più normale. Infatti a questa domanda volevo rispondere. Buono, normale, niente di che. Che vuol dire niente di che? Giocavo nelle squadre di sport con i miei amici. Così facevo tante amicizie. Avevo anche un gemello, quindi eravamo tutto un gruppo, no? Quindi... Da bambino, no? Da teenager, però, eh? Da bambino? Sto parlando di bambino, infatti. Non lo so. Per te era facile fare amicizia? Eri timido? No, per me era facile appunto perché eravamo tutti compagni di squadra. Quindi automaticamente hai i tuoi amici lì. Quindi solo con lo sport? Principalmente sì, anche certamente, naturalmente, anche alla scuola. Chi era il tuo migliore amico quando eri piccolo piccolo? Si chiama Brady. Brady? E non è più tuo amico? Sì, sì, cioè, non siamo amici stretti, però è comunque un amico. Non è venuto al matrimonio? Eh, sono venuti, infatti, pochissime persone. Tutti i tuoi amici più stretti di adesso? Si vede che Brady non è più il tuo migliore amico. Succede nella vita. Cioè, lui ammetterebbe, vuole dire pure, tipo, Brian non è più il mio migliore amico. Certo. Ma mica ci odiamo per questo? Anche io non sono più migliore amica con la mia amica delle elementari. Questo è normale. Eh, vabbè. Lo dici come se fosse, tipo, un fatto triste, tipo, non so più amica. Ragazzi, io alle elementari, poi sono cambiata alle medie, ma alle elementari era una stronza. Posso confermare questo? Che ne sai? Anche se non la conoscevo, sentendo le sue storie, era proprio una stronza. Quando dicono che i bambini sono buoni e innocenti, dico, ma forse io no. Quando ero piccola, ero proprio una stronza. Allora, ero, per qualche motivo, estremamente possessiva con le mie amiche. Io avevo due migliori amiche, ma le trattavo come se fossero mie. Quindi eravamo sempre insieme, giocavamo sempre insieme, però ero molto gelosa se parlavano con altre ragazze, con altri ragazzi. Ero tipo, allora vuol dire che non vuoi più essere amica mia. Ma è normale che i bambini facciano così, o ero solo io che ero così possessiva. Eri solo tu. Vogliono parlare del Pony Club. La storia preferita di mia mamma, di Sonia. Perché io potevo avere altri amici, erano le mie amiche che non potevano perché ero estremamente possessiva. Avevo creato un Pony Club, che era aperto a tutti, però principalmente erano i miei compagnetti di classe che volevano iscriversi al Mon Pony Club, dove gli davo una tesserina e loro erano i miei pony, e giocavamo, tipo io gli davo da mangiare, oppure li portavo a passeggio, oppure mi ci sedevo sopra e loro facevano i pony per la classe. Però questo non è tanto stronzo, perché alla fine loro volevano giocare. Ma perché? No, no, questo non era... Anche lui aveva delle persone che lo seguivano e loro credevano che lui fosse tipo giusto e bravo in quello che faceva, ma comunque l'atto di fare così era bruttissimo. Ok, vabbè, io ero piccola, non è che vedevo l'atto del... Io, cioè, era un Pony Club, ci divertivamo, però invece la possessività, dico ma che cavolo, che bambina ero? Poi invece mi è passata, alle medie sono diventata molto più tranquilla, secondo me adesso sono una brava amica e non sono assolutamente possessiva delle mie amicizie, anzi, sono contenta di condividerle con più persone possibili, sono contenta se il mio gruppo di amicizie si allarga. Tipo, io conosco tante persone che con il proprio partner cercano di tenere le amicizie separate, perché dicono, eh, se poi ci lasciamo voglio che loro siano i miei amici e non i tuoi. Per me no, per me più tu sei amico delle mie amiche più sono felice. Quindi per sintetizzare non sei più gelosa come una maniaca. No, ero pazza. Eh. Infatti questa domanda non aveva senso perché ero normale, però adesso vedo perché l'hai chiesto, perché volevi spiegare i tuoi peccati. Ma volevo anche sapere, perché magari alcuni spettatori, spettatori, follower, erano come me, magari è una cosa normale per i bambini. Adesso tutti stanno dicendo no, eri solo tu, mi dispiace. No. Vabbè. Poi. La prossima domanda è qual era il tuo cartone animato preferito da piccolo? Spongebob. Ma Spongebob c'era quando eri piccolo? Sì, certo. Piccolo piccolo, elementari? Penso di sì. pensa pure che ho due anni di meno di te. Quasi tre. Due e mezzo. No, no, no. Due e tre mesi. Due e tre mesi. Che vuol dire quasi tre? Due e tre mesi, allora. Spongebob. Allora, i cartoni animati per me non cioè non sono tipo non sai quanto li adoro perché guardavo Spongebob. No, sport. Ah, ok. Cioè, quindi non guardavo. Ma da piccolo, alle elementari? Sì, sì. Che pizza. Una cosa che mi piaceva e ancora mi piace fino ad adesso. Oh, Brian, come facevi? Io invece... Non riesco a capire. Io sono di Roma. Per chi non è di Roma, ragazzi, a Roma avevamo un canale che si chiamava Super3 dove facevano tutti anime giapponesi ma vecchi, vecchi come dell'epoca dei nostri genitori quando erano piccoli loro perché li pagavano poco ovviamente e quindi io sono cresciuta con questi anime giapponesi che avevano delle storie terribili tipo orfani. Tipo quelli che guardi adesso? Quelli molto inquietanti. Non erano tanto inquietanti. Alcuni erano proprio tristi come il protagonista a cui erano morti entrambi i genitori oppure la donna che cercava il suo amato che era morto in guerra o... Cioè, proprio capito? delle cose traumatiche. E piccola Sonia di cinque anni guardava queste puntate così. Sì! Le guardavo per me erano normali e infatti quando vedo i cartoni di adesso tipo Peppa Pig dico ma che pizza! I miei cartoni erano pieni di emozioni forti. Eh, infatti non lo sapevo questo Peppa Pig un po' noi diciamolo. Sì, però anche Spongebob. Spongebob è comunque molto più per i bambini rispetto a un anime giapponese dell'epoca dei miei genitori. Che strano che li guardavi però. Cioè, non guardavi cose fatte per i bambini? Guarda, se chiedi a chiunque di Roma dell'età mia tutti quanti noi tutti guardavamo le stesse cose. Si vede che in Italia non so se voi lo sapete ma cartoni animati vanno tanto di moda cioè sono famosi anche quelli attuali per adulti tipo Family Guy i Griffin American Dad Family Guy i Griffin South Park South Park lo adoro cioè sono molto famosi qui non sono cose dimenticate sono molto popolari qui forse addirittura più di quanto lo sono in America tipo American Dad non va tanto lì ma qui c'è abbastanza conosciuto quelli li guardavo dopo scuola mentre mangiavo sempre o i Simpsons o American Dad o i Griffin allora per elencare qualcosa in più perché non guardavo soltanto Spongebob guardavo pure Rocket Power eh? appunto non lo sai Fairly Odd Parents aspetta Jimmy Neutron questi mi vengono in mente mi sa che sono tutti cartoni per i bambini Cat Dog si e infatti stiamo parlando dell'infanzia era un bambino infanzia infanzia le parole che finiscono con zia sono sempre difficili amicizia o amicizia eh appunto amicizia infanzia polizia o polizia 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 cioè sono difficili stai parlando c'hai ragione c'hai ragione comunque va bene se siete di Roma siete stati traumatizzati come me da bambini e infatti quando andiamo in Giappone e quando loro mi dicono che anime vedevi da piccola e io comincio a dire alcuni anime che guardavo loro sono tipo ma sono vecchissimi vabbè oppure magari pensano come fai a saperli sì infatti essendo un italiano giovane sì dicono ma come li conosci li conosco tutti poi che lavoro volevi fare da bambino eh tassista volevi fare il tassista sì perché perché ero stato in un taxi tipo una volta e parlavo con quella persona magari mi stava simpatico e poi ci pensavo un po' e mi sono detto tipo vabbè andare in giro parli con la gente sì guidi ti muovi cioè conosci nuove persone parli può essere pure divertente come lavoro poi i miei mi hanno preso in giro per questa cosa hanno riso e mi hanno fatto cambiare idea in realtà il tassista è un lavoro o almeno era perché adesso le cose sono cambiate in Italia forse è ben pagato cioè in America è comunque un lavoro che diciamo è comunque un lavoro abbastanza ambito perché è difficile prendere la licenza e poi poter prendere proprio il taxi quindi diciamo che è abbastanza regolato come industria ma adesso non so adesso non so come funziona con Uber 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 però però mio zio ha sempre voluto fare il tassista qual è? Sandro lui ha anche preso la licenza però devi prendere sia la licenza che proprio il taxi capito non la macchina ma come puoi lavorare e quello non è riuscito a prendere non so come funziona adesso volendo appunto c'è Uber quindi tutti lo possono diventare eh no infatti adesso è un po' diverso non so com'è però chi piace guidare è un bel lavoro sì penso ancora che è comunque un lavoro cioè non tra i lavori più brutti comunque ah no e poi volevo cioè certamente volevo fare il giocatore di baseball calcista calciatore calciatore stavo pensando a cessista sì il giocatore di bella canestro sì ma mi piace che c'è una parola gestista per comunque uno sport che non è comunissimo c'è la parola per un giocatore di basket gestista che fai? eh io no niente sono un gestista un po' cioè quante rara sta parola immagino comunque ecco queste cose cioè tutti vogliono essere giocatori quando hanno sette anni io no perché odi lo sport lo sanno mai voluto essere un atleta allora comunque poi io io volevo fare la cantante sempre ho voluto fare la cantante giocavo a cantare quando ero piccola che in grosso modo l'hai fatta sì infatti poi avevo deciso che volevo fare l'ambasciatrice perché avevo sentito che gli ambasciatori viaggiano e parlano bene altre lingue e allora avevo detto sì mi piacerebbe viaggiare e fare l'ambasciatrice non avevo preso in considerazione che io non ci capisco un cavolo di politica e neanche mi interessa molto la politica quindi mi sa che non è solo viaggiare e imparare lingue no mi sa che non avevo ben capito poi per un periodo volevo fare la stilista quando ero piccola ma non ho mai seguito questa passione perché forse non ero così tanto appassionata disegnare e nemmeno moda quindi forse la cantante era quella che piaceva di più e poi quando sono cresciuta un po' ho sempre pensato all'insegnamento perché secondo me è un buon match per il mio carattere però non ero più tanto piccola poi la prossima domanda è eri un bravo studente? sì abbastanza sì il mio grade point average era sempre sui 3.0 quindi per per far capire tipo A, B, C, D, F ero sempre uno studente B non era non ero il top della classe però ero meglio della media quindi eri sopra la media sì sì anche da piccolino penso di sì sempre e poi all'università devo dire ero molto bravo perché a quel punto il mio grade point average era 3.5 e quindi metta A metta B anche i compiti li facevi da solo o avevi bisogno che i tuoi ti dicessero Brian fai i compiti sì come tutti a volte dico bah che vuol dire questo aiutami o magari vai dall'insegnante e chiedi aiuto certo però cioè in genere li facevi da solo sì non avevi bisogno di continui mettiti seduto fai i compiti sono stato diciamo portato per cioè per scuola per me eri portato sì ero portato perché per me non era difficilissimo cioè le cose mi venivano abbastanza naturali non lo so naturalmente tu? io ero molto brava che? sto vedendo che scrivi basta io ero molto brava ci tenevo un sacco a essere sempre la prima della classe lo sappiamo lo sappiamo ma secondo me è perché allora io sono andata sin dall'asilo a una scuola privata cattolica quindi con le suore e mi ricordo che una volta la mia maestra delle elementari tipo il primo giorno di scuola aveva fatto un discorso secondo me un po' c'è sia la propria indole era sempre stato il mio carattere però la mia maestra mi aveva guardato ci aveva guardato ci aveva detto voi siete bambini non avete grandi responsabilità la vostra unica responsabilità è di essere bravi a scuola e di rendere orgogliosi i vostri genitori a scuola che adesso non sono affatto d'accordo con questo non è l'unica responsabilità di un bambino è quello che deve fare però lì per lì ero tipo sì questa è la mia unica responsabilità e quindi ero molto brava non sapevo questa storia devo accendere la luce è un po' buio vero? sì quando ci vai posso intrattenere la gente mentre non ci sei parlando di tante cose quindi ragazzi iniziamo con l'infanzia l'infanzia l'ultima domanda è un tuo ricordo preferito di quando eri piccolo non ce l'ho adesso eh dai un ricordo tu ce l'hai perché devo andare sempre prima io perché ho scritto le domande? questo chi monta il video? ecco quanto monti? non mi viene in mente subito un ricordo speciale allora quando sono andato al World Series con mio papà e mio frate anzi oddio non era World Series era National League Championship Series 2007 quanti anni avevi? 14 non eri bambino eri un teenager io ne ho tanti allora una cosa che ricordo sempre volentieri sono le mie feste di compleanno le mie feste di compleanno erano sempre molto fiche perché erano sempre in maschera perché io sono nata a gennaio quindi era vicino il carnevale e facevamo sempre la festa in maschera quindi ogni anno sceglievo una maschera diversa una volta ero Tomb Raider Tomb Raider sapevo che dire Tomb Raider non avrebbe aiutato wow si dice Tomb Raider sì una volta ero Tomb Raider Tomb Raider e è stato fighissimo e soprattutto le mie zie io ho due zie le sorelle di mamma che si impegnavano tantissimo a fare l'animazione alle mie feste e quindi organizzavano mille giochi ci tenevano davvero tanto a fare le mie feste divertenti e non troppo da bambini erano con giochi particolari le mie feste di compleanno sono sempre state molto fiche e un altro ricordo è quando sono andata in Norvegia con i miei genitori siamo andati in macchina siamo partiti da Roma abbiamo fatto in macchina tutto fino alla Danimarca poi la Svezia la Norvegia la Finlandia l'Estonia e siamo tornati giù e quindi c'era tantissimo da guidare e io stavo sempre sui sedili posteriori con Marco con mio fratello e abbiamo parlato tantissimo e passavamo tutto il giorno insieme a scherzare e a ridere anche io ho fatto qualche road trip del genere da Colorado fino a Iowa perché poi da Iowa partivamo in una barca sul Mississippi River walking walking down Mississippi oh no diciamo 15 ore di viaggio io ho fatto un mese e pensavamo di essere noi quelli che viaggiano in macchina tanto invece eravate voi i cristovori e quindi mi hai rubato così la la risposta non c'hai un ricordo preferito dell'infanzia mi ricordo quello molto quando stai bene? sì no non mi vengono cioè allora vabbè ok se non sai una risposta e non cioè ti fa una domanda molto specifica è difficile tirare fuori così di buona buona risposta diciamo solo che è una buona cosa che questo vlog sia che questo video sia in italiano così i tuoi genitori non devono vedere che non hai nemmeno un ricordo di quando eri piccolo ho detto giocare a sport la mia squadra ha vinto the world series quando avevamo otto anni che squadra? baseball oh wow quindi sei un campione mondiale di baseball non mondiale locale hai detto world series world series per us per noi quindi non è world no si chiama comunque così ma non è vero quindi è solo in colorado ovviamente no mica in colorado tipo la nostra comune piccola città centennial champion quando cioè eravamo i campioni di centennial colorado tra i ragazzi di otto anni maschi quindi solo tra le scuole di centennial yeah perché pensa quanti bambini ci sono world series champion ah dicevo wow wow però hai viaggiato world series si chiama veramente però anche nel MLB Keith anche se è solo una league degli Stati Uniti però è la league più forte quindi in pratica è world series ok allora adesso parliamo di alcune cose che abbiamo menzionato durante questa chiacchierata io ho detto stringere i denti dobbiamo stringere i denti e superare anche questo stay strong e come tradurresti letteralmente stringere i denti squeeze your teeth squeeze tighten your teeth stringi i denti e vai avanti che in pratica è una cosa che si fa quando c'è un momento di tensione si stringi i denti è vero poi cosa vuol dire fare amicizia make friends si be friend esatto quindi è una traduzione quasi letterale poi cosa vuol dire timido timid shy e cosa vuol dire tu l'hai detto essere portati it's like to be gifted or like be skilled at or like yeah you have a gift be naturally gifted sono portato sei portata per le lingue sì sei portata per le lingue però quando lo usiamo al passato lo usiamo con l'imperfetto ero portato per le lingue non diresti sono stato portato per le lingue va bene lo dico per loro lo dico per loro come sei muscoloso sancio poi che cosa vuol dire tutt'ora tutta una parola tutt'ora tutt'ora vuol dire anche fino ad adesso tu hai detto tipo gli sport mi piacevano e mi piacciono fino adesso però puoi dire e mi piacciono tutt'ora quindi vuol dire fino ad ora sì even now mi piacciono tutt'ora è utile vero? ok lo userò grazie poi poi una cosa difficile per i nostri studenti di italiano è sempre quando usare una preposizione dopo un verbo ne ho parlato tante volte con tanti miei studenti sapete chi siete? perché è difficile per tutti no davvero per tutti perché che preposizione utilizziamo dopo il verbo pensare? non sempre che preposizione usiamo dopo iniziare e finire e di sì ok però sono cose che devi memorizzare come mi è stato suggerito da Christine dice scrivi un piccolo dialogo con tanti verbi e preposizioni e potete leggerlo così sarà più facile per noi memorizzare le cose perché forse se le mettiamo in un dialogo è un po' più facile famolo allora facciamolo io sono io sono il trattino e tu sei B sto pensando di mettermi a fare uno sport nuovo ha provato ad andare in bicicletta? non so andare in bicicletta ho voglia di fare qualcosa all'aperto però perché non cominci a correre? quanto pensi di riuscire a correre? credo di poter correre 4 chilometri in mezz'ora mettiti a correre allora puoi riuscire a correrne 5 sicuramente spero di riuscirci presto ciao ciao allora concentratevi su pensare di mettersi a provare a avere voglia di cominciare a credere di riuscire a sperare di leggiamolo un'altra volta sto pensando di mettermi a fare un nuovo sport hai provato ad andare in bicicletta? non so andare in bicicletta ho voglia di fare qualcosa all'aperto però perché non cominci a correre? quanto pensi di riuscire a correre? credo di poter correre 4 chilometri in mezz'ora mettiti a correre allora puoi riuscire a correrne 5 sicuramente spero di riuscirci presto due cose che possono essere un po' difficili cosa vuol dire mettersi a fare qualcosa? like put yourself to do something sì non si dice in inglese però il concetto è molto molto usato in italy in italiano mi sono messo a studiare si è messa a cucinare mettiamoci a lavorare sì è come dire let's start let's put yourself to work e poi avere voglia di to have the want to or to feel like doing something feel like doing something yes avere voglia to have want of scusate per la nostra performance non molto convincente ho recitato benissimo tu non lo so lo so non sono proprio un'attrice ok passiamo all'ultima sezione va bene words of the week words of the week words of the week allora cosa è l'amico del cuore like a close friend your best friend l'amico del cuore è your best friend è come il migliore amico the friend of heart sì the friend of the heart che cos'è l'asilo asylum for insane people just kidding it can be could be but also mainly preschool or something kindergarten kindergarten e cos'è l'asilo nido same thing nursery so before kindergarten you have nursery asilo nido and then asilo and then elementari poi I don't know if you know this cosa vuol dire essere in fila per due non lo so quando a scuola ti dicono mettetevi in fila per due oh in groups of two oh two-sided line yeah like usually you have to hold hands with someone and it's like one two one two one two you don't do that we still have single file line and I guess double file line come dicono le maestre stand in two lines stand in two lines make two lines right here stand in two lines no noi diciamo mettetevi in fila per due devi dare la mano al tuo amichetto infatti cosa vuol dire tenersi per mano hold someone si tenersi per mano e poi l'ultimo che secondo me erite da piccolo che cos'è un rosicone rosicone is like a sore loser someone who reacts poorly to a loss eri un rosicone da piccolo maybe a little bit sei un rosicone adesso io non ero tanto una rosicona mio fratello sì ero un rosicone si parla di essere competitivi chris è un rosicone può essere mia mamma più che altro tua mamma è una rosicona lo è ancora lo è tuttora va bene lo era e lo è tuttora ti sta approfittando di questa cosa sì che non possono capire questo italian breeze italian breeze va bene ragazzi vi è piaciuto questo secondo episodio pubblico sì ma mi è molto ragazzo lasciateci un commento ci piace leggere i vostri commenti ci vediamo alla prossima puntata di italian breeze with sonia and brian ciao 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 ciao